musica 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 e così per fare una battuta effetto che però non mi è riuscito ma come mi ha preso che io ero dietro che spavento la vendetta di naruto ma io ero dietro io ero dietro non ci credo se è un ninja della foglia il motivo ci sarà si ma mi ha portato dalle spalle a davanti e mi ha schiacciato al muro cioè porca miseria è lo scambio di posto di corpo la grande tecnica l'antica tecnica ninja e mi hanno buttato quasi fuori mappa invece mi ha ucciso questa porca miseria stazionava sulla cura mi sono rotta le scatole sono entrata mi ha colpito con una boccetta incredibile in faccia forse erano di quelle boccette difensive per un cino tre si è messa a piangere tantissimo si sono riempiti gli occhiali d'acqua si può evitare americani americani grande guido guarda che frego le chi guarda come ho fregato questa kill e le tue torrette questa è classe questa è classe ti proteggo io io adoro quando succede questa cosa è bellissimo è abbandonato malamente sto tentando di fare una cosa che non è possibile fare vero? cioè? sparare ad anzo da qua sotto guarda che bello come sia la bulla anzo e l'ho fatta io tiè tipo ho fatto solo questo probabilmente senza la ultra tra l'altro guarda quella affara come si incastra male e l'ho fatta l'azione migliore va che bella smetra rossa si è ho imparato dal migliore grazie grazie tu fu buon però la highlight non è abbastanza snob no la highlight è fin eh beh quello snob l'ho lasciato a te qui stavo vilmente scappando chi stava dai ciao lagas dammi un passaggio vieni qua egoista portami da sopra andiamo ti prendo in braccia aspetta aspetta andiamo la sopra corralenti pure sono finita sulla luna come rubo le chili alla gente proprio nessuno mai salta Messi ma dove hai saltato un drago? si ho saltato con tanta classe stile eh ti ho lanciato la pallina nel momento in cui sei crepato malamente guarda che bello guarda che bello a vero si ha sempre dei cosi fichissimi ce l'ho anch'io quello lì sono sempre fichissimi sai come starebbe meglio? mh così eh certo con la faccia da coniglietto ma dove che vuoi? die nooo vai cara zimpicchiani tutti spinga signorina Messi spingo spingo hai una mano? vieni vieni ma è in folle sto coso è in folle è in folle non vedi che va? guardalo guardalo però la mancatura l'hai fatta tu? con i pugni con i pugni e le mani ah ok ok però non spingi più cos'è sta storia? aspetta aspetta che sto tenendo tutti i miei crees sotto controllo non ho colpito nessuno ma intanto li ho lasciati indietro quattro minuti? ma spingi tu per quattro minuti anche il video di oggi si conclude qui come sempre in descrizione troverete tutti i link dei vari canali passateci ed iscrivetevi se vi va lasciatemi anche un like ed un commento e come sempre vi auguro una buona giornata un saluto a tutti oggi ho comprato le caramelline nuove tutti sull'obiettivo che sono eucalipto e miele e non so perchè sandi prosciutto come sandi prosciutto? no 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 no